La Regione Campania ha dato il via libera al finanziamento con fondi europei da 178 mila euro per l'attivazione di un pozzo che una volta collegato alla rete dovrebbe soddisfare il fabbisogno idrico della frazione piccola di Ponte Cagnano-Faiano, che in estate registra un notevole incremento turistico. L'intervento, che sarà attuato dall'ASIS, prevede l'installazione di alcune opere elettromeccaniche e la realizzazione di una condotta che raggiungerà il serbatoio dell'acquedotto. Un progetto da appaltare entro e non oltre il 31 dicembre 2019 che dovrebbe porre fine ai disagi che periodicamente i cittadini della zona patiscono.